Questa data dovrebbe servire a riflettere, a imparare qualcosa, a approfondire ed è sempre un piacere anche quando ci sono opinioni leggermente dissonanti su alcuni temi. Rispetto alla questione Milano, diciamolo con molta franchezza da subito, il più grande abbraccio di solidarietà affettuoso e totale a Enrico Letta, il segretario del PD e naturalmente alla Brigata Ebraica. Il fatto che ormai siamo abituati a vedere contestato, quantomeno la Brigata Ebraica, nulla toglie allo squallore, alla schifezza, alla vergogna di un gesto del genere. Quelli sono coloro i quali, o comunque gli eredi, hanno combattuto, lo ricordava prima Aujas, per la libertà dal nazifascismo. Una cosa analoga a Reggio Emilia, ne parlano meno, vi sono più legato per motivi anche legati all'appartenenza partitica, ma un gruppettino di persone di più Europa e di Italia viva a Reggio Emilia è stato costretto ad abbandonare il corteo, sempre con le stesse scempiaggini dette contro Enrico Letta a Milano e sa chi c'era in quel corteo? C'era una bambina di 8 anni che aveva una bandiera americana, portata evidentemente dai genitori, aveva la bandiera italiana e la bandiera americana. Ecco, utilizzare il 25 aprile per regolare i conti con la storia, dandone un'interpretazione distorta è una vergogna.